Amministrative di Porto Azzurro 2012, incontriamo la candidata a sindaco di Porto Azzurro, Arianna Agarini. Buongiorno Arianna. Buongiorno a voi. Già di queste quattro liste che si è fatto un gran parlare, cioè che ci sono troppe e tante altre discussioni varie, ha destato, direi stupore, una lista composta da sole donne. Perché Arianna? Allora, la donna riveste un ruolo fondamentale nella nostra società e soprattutto anche all'interno di una famiglia. La donna spesso è amministratrice di una famiglia. Perché no avere una parte attiva, una componente attiva in comune? Perché fino adesso la donna in comune ha avuto solamente una forma passiva. Quindi rivalutare anche un pochino questo ruolo della donna in comune anche dal punto di vista di gestione dell'amministrazione. Ecco, signora Agarini, abbiamo letto il suo programma e vediamo che è incentrato in maggioranza al sociale. A cosa si riferisce in particolare? Allora, il sociale è riferito ai giovani, agli anziani e soprattutto alla scuola. La scuola che sia come infrastrutture che come strumenti per la didattica. Il comune deve intervenire dal punto di vista della sicurezza della scuola, quindi come struttura, e soprattutto fornire quegli strumenti per uno studio adeguato. Adesso la scuola si deve parificare a livello europeo. Non bisogna guardare nemmeno più l'Italia, ma bisogna guardare l'Europa. La scuola è molto importante perché spesso noi come insegnanti assistiamo ad una dispersione scolastica che si verifica poi in seguito nel loro percorso di studi. Dal punto di vista poi del pomeriggio diciamo che si assiste spesso a degli alunni che li vediamo in giro per la piazza, per le varie vie del paese, oppure sono intrattenuti davanti alla televisione, una televisione che ormai è diventata una tv spazzatura. Allora noi vogliamo anche creare qualcosa per i giovani nel pomeriggio, creare dei movimenti culturali che appassionano i ragazzi, creare anche una compagnia teatrale, perché abbiamo un teatrino, per cui sfruttare anche il discorso culturale proprio del teatro e poi anche gli anziani. Ora dal punto di vista del sociale gli anziani non sono mai stati presi in considerazione. Noi vogliamo fare anche un circolo ricreativo per gli anziani e perché no anche una casa di cura per essi. E questi sono i nostri obiettivi. Bene, signora Garini, chiaramente il rilancio di un paese non passa soltanto per il sociale, che è una cosa importantissima, in particolar modo quello del reinserimento dei giovani, trovare delle alternative per i giovani, eccetera, ma passa anche economicamente da un progetto di porto turistico, da una viabilità accessibile, da un qualcosa che permetta al turista quando scende in questo meraviglioso porto di poter fruire di servizi e di locali adeguati. Qual è il vostro pensiero in proposito? Allora, innanzitutto creare degli intrattenimenti per il turista, perché non basta avere una piazza sistemata, non basta avere un porto tutto abbellito, bisogna fornire dei servizi ai turisti. Innanzitutto il nostro punto forza è creare delle manifestazioni, degli eventi culturali, che possono richiamare un po' l'attenzione del turista. Questo però lo vogliamo fare su scala nazionale ed internazionale, nel senso che vogliamo valorizzare quello che è il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Per quanto riguarda il porto, si tratta di valutare questa risorsa, perché è una fonte di lavoro, innanzitutto, quindi bisogna sfruttare questi posti barca, rivalutare il discorso dell'assegnazione dei posti ai residenti e ai non residenti e di vedere un po' di creare lavoro su questo piano. Si è fatto in questi ultimi tempi un gran parlare all'Isola d'Elba del Comune Unico. È stato detto, fatto e immaginato chissà quali cose. Addirittura, ormai lo possiamo dire, l'ex sindaco Papi ha fatto una campagna contro il Comune Unico. Il suo pensiero. Allora, prima di esporsi in una campagna elettorale bisogna sempre tenere presente la democrazia, nel senso che la decisione secondo me non spetta tanto al sindaco quanto alla cittadinanza. Io dico sempre che il libero pensiero, come si chiama la nostra Lisa, è molto importante, perché quando ci vengono proposte delle idee, noi non bisogna accettarle acriticamente, ma devono passare al valio della nostra conoscenza e soprattutto della ragione. Quindi proporre un Comune Unico e imporre un Comune Unico secondo me non è democratica la cosa. Io mi rimetto soprattutto ai cittadini, però dopo io mi esporrò, dopo che avrò un'informazione su questo Comune Unico, valutando quelli che sono i pro e i contro. Prima di lasciarci, una domanda. La sua lista si chiama Libero Pensiero. Per Libero Pensiero la prima cosa a me, vecchio giornalista, che fa venire a mente è una parola, una parola magica che tutti usano senza poi magari mai metterla in atto. Partecipazione. Cosa le dice questa parola? La partecipazione è fondamentale. Io credo innanzitutto che un sindaco deve creare un'aggregazione sociale tra le persone, cosa che finora secondo me non c'è stata, non è avvenuto. Siamo ai livelli di un annichilimento sociale, economico e politico e questo è il mio pensiero. La partecipazione dei cittadini è fondamentale. È fondamentale perché si deve assistere ad un dialogo e questa è democrazia. Ad un dialogo anche si deve assistere durante i consigli comunali, cosa che invece spesso io sono andata in questi consigli comunali ed ho assistito solamente dei monologhi. Quindi occorrono anche delle assemblee con la cittadinanza. Per esempio, il discorso del bilancio. Perché non proporre alla cittadinanza quelli che sono tutta la rendicontazione, non fare tramite dell'assemblea partecipi la cittadinanza a quella che è anche la parte economica del nostro comune. Arianna, un'ultima domanda prima di ringraziarla per la sua disponibilità e lasciarla libera. Abbiamo dato un'occhiata alla sua lista e abbiamo notato, sì, quel poco di conoscenza che abbiamo, che è una lista veramente interessante, fatta di persone competenti. L'affidabilità, l'attivismo e la competenza, come ha detto lei, sono le nostre prerogative. Noi vogliamo operare con la trasparenza soprattutto e la chiarezza e soprattutto anche con l'onestà di intenti. Noi vogliamo che la persona di Porto Azzurro, tutta la cittadinanza, venga a conoscenza dei nostri progetti, dei nostri obiettivi e vogliamo soprattutto che i nostri obiettivi vengano anche condivisi dalla cittadinanza stessa.